benvenuti al meteo di firrucci tv vediamo le previsioni del 21 marzo 2020 le nostre regioni meridionali risentono di una circolazione di aria umida ed instabile che determina ancora piogge e rovesci sparsi i fenomeni saranno più probabili in sicilia a parte qualche occasionale fenomeno nelle zone interne la situazione andrà migliorando venti deboli dei quadranti sud occidentali mare di sicilia calmo vediamo adesso le temperature agrigento 613 caltanissetta 511 catania 616 enna 38 messina 1015 palermo 1015 ragusa 69 siracusa 916 trapani 616 grazie per averci seguito appuntamento al meteo di domani